Salve a tutti, benvenuti alla Bottega Didattica, sono Gianfranco Marini e vorrei presentarvi in questo video tutorial uno strumento molto semplice e molto interessante che ho conosciuto grazie ad Astrid Ulsebosch, spero di aver pronunciato bene, che si chiama StoryMap e che serve per costruire la struttura narrativa di un racconto, gli elementi ricorrenti che caratterizzano la dinamica di una storia e lo sviluppo della sua trama. Prima di presentarvi StoryMap devo presentarvi Read, Write, Think, molti di voi già lo conosceranno, è una piattaforma per l'insegnamento e l'apprendimento che è focalizzata e dedicata cioè in particolar modo allo sviluppo delle competenze relative alla comunicazione e quindi leggere, scrivere e pensare infatti è il titolo del sito, si tratta di centinaia di piccole applicazioni e strumenti molto semplici da utilizzare, assolutamente free, che permettono ai studenti e insegnanti di, dicevo appunto, costruire o analizzare contenuti comunicativi di tutti i generi, dalla scrittura e lettura argomentativa a quella narrativa, poetica e via dicendo. E quindi diciamo che permette di migliorare questo tipo di competenze e di avviare al potenziamento del pensiero critico. Read, Write, Think non richiede registrazione, vediamo come funziona. Bene, prima di tutto abbiamo detto non richiede registrazione. Sono presenti poi strumenti, applicazioni per ogni livello e grado di istruzione, si va dalla scuola dell'infanzia fino all'ultimo anno del liceo. È tutto in inglese, questo può costruire un problema per chi non conosce l'inglese, anche se si può ricorrere alla funzione di traduzione di Google o a dei dizionari online. Dicevo che contiene centinaia di applicazioni e che queste vanno incontro alle più disparate esigenze, è impossibile elencarle tutte, si va dai cruciverba al riassunto, a come costruire il riassunto, a come costruire un testo argomentativo, a come costruire una timeline, a quelle che vedremo sono strumenti a supporto dello storytelling, della narrazione. La cosa più difficile forse è trovare l'applicazione che ci serve, ora vedremo come è possibile farlo. Una volta che noi terminiamo il lavoro, qualunque applicazione abbiamo scelto, possiamo stampare. In rari casi si può salvare il file, anzi quasi sempre devo dire che si può salvare il file perché possiamo stampare o salvare in formato PDF, non possiamo salvare online. Dicevo che è molto semplice e rapido da utilizzare, o meglio, le varie applicazioni sono molto semplici e rapidi da utilizzare, nonostante ciò io ci metterò molto tempo a mostrarvi story map come al solito. Vediamo adesso per rintracciare il sito, scriviamo read, write, think, ed eccolo qua. Bene, vi mostro il sito nella sua interezza, è un sito in realtà molto complesso perché oltre alle applicazioni contiene varie altre cose, abbiamo infatti risorse, cioè le applicazioni per la classe, abbiamo risorse per lo sviluppo e l'aggiornamento professionale, abbiamo dei video, abbiamo risorse per le famiglie, per il dopo scuola, a noi ci concentreremo sulle classroom resources, cioè sulle risorse, l'applicazione degli strumenti per l'apprendimento e l'insegnamento. Trovare l'applicazione giusta è molto difficile perché sono centinaia, possiamo o usare il menu, quindi abbiamo piani di lezione, applicazioni interattive per gli studenti, applicazioni per dispositivi mobili, calendarizzazione di attività, moduli da stampare. Ognuna di queste categorie si suddivide a sua volta in ulteriori categorie. Proviamo a vedere gli strumenti interattivi per gli studenti e vediamo che si suddividono in strumenti per l'organizzazione e la sintesi, per la ricerca e l'analisi, per la scrittura poetica, per la scrittura e la pubblicazione in prosa e l'apprendimento del linguaggio. All'interno di ciascuna di queste categorie sono comprese le varie applicazioni. Andiamo per esempio a vedere See All, cliccando qui, le applicazioni che rientrano nella categoria ricerca e analisi. Ecco, le vediamo qua, sono sette, per esempio animali, ricerca, analisi, relativa agli animali. Se clicchiamo ci comparirà la risorsa, verrà indicato il livello di istruzione, è quindi grado 3-6, quindi corrispondente grossomodo la nostra, dalla terza alla prima media, il tipo di attività, la categoria in cui siamo, è richiesto flash. Per cominciare basta cliccare qui. Altre informazioni che ci vengono fornite sono le seguenti. Una breve descrizione dello strumento, di quello che lo strumento è in grado di fare. Se non conosciamo l'inglese possiamo cliccare sulla traduzione automatica di Google e qualcosa si capirà. The Animal Inquiry è uno strumento interattivo versatili che può migliorare la richiesta degli studenti nel campo della ricerca a livello elementare. Insomma, non è proprio una traduzione perfetta, ma si riesce a capire qualcosa. Per farlo partire basta cliccare su Get Started. Non c'è bisogno, come vedete, di registrazione, posso subito cominciare. Bene, chiudiamo adesso questa finestra e torniamo alla pagina principale. Come si può trovare anche l'applicazione perché è dura navigare tra tutte queste applicazioni usando le categorie? Bene, con una parola chiave. Supponiamoci interessi il riassumere e quindi quegli strumenti che possono far esercitare degli studenti la capacità della sintesi e scriviamo Summarize. Naturalmente se non conosciamo l'inglese possiamo usare un vocabolario online come Word Reference, per esempio italiano-inglese, mi interessa l'argomentazione, posso andare a vedere Argument. In questo caso ho messo Summarize, clicco su Summarize e vedete mi compaiono tutta una serie di attività. Devo guardare questo Classroom Resources, non mi interessa Parent e After School Resources, eccetera. C'è un Mystery Cube, chissà cosa sarà. Questo sarebbe per disegnare copertine di CD e DVD. Questo serve per costruire brevi presentazioni per convincere qualcuno di qualcosa con una storia. Quest'altro è molto carino, sarebbe per costruire degli haiku. Bene, proviamo adesso con la parola che avevamo trovato, che era argomente, chiedo scusa per la pronuncia, e vedete mi compare tutta una serie di applicazioni che sono correlate a questa parola chiave, che posso provare così posso avere più possibilità di trovare ciò ciò che mi serve. Guardate quante pagine mi rende la ricerca. Bene, abbiamo visto come ci si muove in RedWriteThink. Vediamo adesso di tornare a StoryMap. StoryMap è una piccola applicazione che fa riferimento in qualche modo alla rappresentazione grafica di una storia di Brett Dillingham, in cui abbiamo le sequenze in cui si struttura la fabola, la trama della storia. Abbiamo un inizio, abbiamo una fine, abbiamo la rottura di un equilibrio iniziale a causa di un problema, di un conflitto, un climax, un punto culminante, la crescita e trasformazione del personaggio, finché attraverso una serie di vicende si arriva, quindi lo sviluppo, si arriva a una soluzione che risolve il problema e si chiude la storia, la vita riprende, eccetera. Bene, StoryMap serve appunto per scrivere quella che potremmo dire è la trama, la struttura narrativa, gli elementi che caratterizzano la struttura narrativa di una storia e quindi permette di rappresentare graficamente quelli che sono gli elementi strutturali di una storia e quindi possiamo definire i personaggi, quello che è l'elemento conflittuale che determina la dinamica narrativa e quindi la dinamica narrativa stessa, lo sviluppo della storia e la sua soluzione. È uno strumento che è consigliato per le attività che precedono la scrittura di una storia e quindi prima di preparare la nostra storia vogliamo avere chiaro in mente quali siano gli elementi della storia stessa in modo da seguire una sorta di storyboard, di scaletta, ma anche per attività di post lettura, cioè dopo che leggiamo una storia possiamo analizzarla o chiedere agli studenti di analizzarla ricorrendo a questo strumento, quindi analizzare storie lette o creare nuove storie. Il lavoro una volta terminato può essere stampato e quindi analizzato e valutato o può essere anche salvato in formato pdf e vedremo poi come. Andiamo a vedere adesso StoryMap. Dato che conosciamo il nome dell'applicazione per far prima ci conviene cercarla nel box di ricerca, io l'avevo già cercata. Ecco qui StoryMap, clicco sul link e mi compare il box descrittivo, è adatta a tutti i livelli di scuola, a tutti i gradi di istruzione, chiedo scusa, richiede flash e qui mi si propongono delle varie attività, questi sono contributi degli utilizzatori del sito che pubblicano i loro lavori. A noi interessa, dicevamo, l'applicazione, clicchiamo Get Started. Ecco qui la nostra applicazione, ingrandisco, è un commissione molto semplice, do un titolo, autore devo indicare, anche se in inglese è veramente molto semplice, a questo punto posso scegliere tra i quattro elementi di questa mappa, o cliccando su queste icone o selezionando da questo grafico. La mappa del personaggio, la mappa del conflitto, la mappa della risoluzione, della storia, la mappa relativa alla scenografia, all'ambientazione, alla location, insomma, in cui la storia si svolge. Cominciamo dal nostro personaggio. Ecco qua, gli devo dare un nome, abbiamo detto che si chiama Pippo, e clicco su invio. E qui mi si chiede di descrivere le caratteristiche del personaggio, qui adesso scrive una descrizione, personaggio, le caratteristiche fisiche, psichiche, eccetera. Qui mi si chiede di descrivere che cosa il personaggio fa, che cosa fa il nostro Pippo, e invio ancora una volta, e finalmente mi si chiede di descrivere come gli altri personaggi della storia reagiscono, interagiscono con il nostro personaggio. Bene, a questo punto ho terminato. Ho terminato e posso o stampare o rieditare. Edit vuol dire che posso modificare il titolo e l'autore. Naturalmente posso ritornare nelle caselle dove ho inserito le varie descrizioni per modificare, o appunto stampare. Vediamo, prima di stampare, le altre rappresentazioni, le altre mappe grafiche. Il conflitto. Questa è la mappa del conflitto, e anche qui basta tradurre quello che c'è scritto in inglese e scrivere nel riquadro, e quindi che cosa consiste è questo conflitto, dovrò descrivere il conflitto, e andiamo avanti, qui dovrò invece spiegare il perché questo conflitto si scatena. Per ultima cosa, dovrò indicare alcuni modi con cui il conflitto può essere risolto. Finito, anche qui posso rieditare o passare ad un'ulteriore mappa, Resolution Map, quindi come si risolve il tutto. Qui indicherò la soluzione, che cosa accade dopo che il conflitto si risolve, Pippo torna a casa, per esempio, è che effetti hanno sul personaggio, quindi la crescita del personaggio, come io ho detto è basato sulla rappresentazione grafica della storia che abbiamo visto prima, come cambia Pippo. Ho finito anche questa mappa, come vedete è molto semplice, setting, qui la scenografia prima di tutto, dove si sviluppa la storia, a casa di Pippo, poi nel secondo riquadro mi si chiede il tempo, cioè quando, dopo aver specificato dove, quando la storia si svolge, e infine mi viene suggerito di descrivere in modo dettagliato l'ambiente, i colori, l'atmosfera, eccetera, eccetera. A questo punto ho finito anche la mappa dell'ambientazione, andiamo a stampare, vediamo come si stampa. Clicco su Print. Cosa voglio stampare? Io ho utilizzato tutti gli strumenti, quindi seleziono tutto quanto, ma potrei stamparne solo uno, in questo caso li seleziono tutti e vado su Next. Mi si chiede a questo punto di stampare o di rieditare, se non sono sicuro, io vado su Stampa e come si vede a questo punto posso o stampare, quindi inviare alla mia stampante questi quattro fogli che riportano esattamente quello che mi è apparso a video, ma posso per esempio anche, anziché stampare, cliccando su Modifica, salvare come PDF. Ecco, in questo caso salvo come PDF e decido poi cliccando su Salva dove, in quale parte del mio computer voglio salvare il tutto. Adesso non salvo, chiudo tutto. Bene, abbiamo visto StoryMap, è estremamente semplice, sono riuscito addirittura a fare una videotutura di 16 minuti, Luca, Raina e Elisabetta ci avrebbero messo due minuti e mezzo, spero di non avervi annoiati troppo, vi ringrazio e vi saluto.